Ciao a tutti, nel video di oggi voglio mostrarvi uno strumento che trovo molto carino, che si chiama Observable HQ. Non è un concetto completamente nuovo, già esistevano in passato strumenti simili, e questo strumento si può definire una sorta di linguaggio di programmazione interattivo che può essere utilizzato in tantissimi contesti. La particolarità di Observable HQ è che questi notebook che vedete possono essere sviluppati in JavaScript. E appunto la cosa interessante è questa, nel senso che qui abbiamo un blocco, cliccando qui sulla spunta potete vedere il linguaggio che l'ha generato, in questo caso qua si tratta di una semplice scritta in markdown, però l'aspetto più interessante è quello di JavaScript. Per esempio andando a comporre varie informazioni che si trovano su internet, si possono creare dei grafici interattivi molto interessanti. Per esempio questo items lo vado a prendere dalle API di CoinMarketCap, e quindi qua ho messo un limite 30, però questo qui è un valore mio che ho deciso, e questo blocco di codice che assomiglia al 90% JavaScript mi restituisce una serie di dati. Questi dati non sono esattamente come li vorrei, quindi in un secondo blocco di codice vado a fare una conversione. Quindi da questa variabile qua, items, è quella che viene definita da questo blocco, e con items fix vado a fare alcune correzioni a questi dati che ottengo, e quindi li trasformo effettivamente come li vorrei avere per poter fare il grafico. E quindi cliccando qua posso vedere che cosa accade, e quindi qua praticamente vado a fare la conversione diciamo da stringa a valore. Una volta fatta questa conversione i dati sono come dire puliti apposta per essere visualizzati, quindi questa è una stringa, questo è un numero, e una volta che abbiamo tutti questi numerini possiamo appunto fare i grafici come meglio crediamo. Viene integrata una libreria JavaScript per fare grafici, che si chiama Vegalite, e però dovrebbe essere possibile anche utilizzare altre librerie open source per fare grafici, quindi qua non vi addentro più di tanto, nel senso che questa libreria la potete andare a cercare su GitHub vedere effettivamente come funziona, quindi dovete specificare quale valore rappresenta le x, quale valore rappresenta le y, eccetera, e in tempo reale ottenete il grafico. Facciamo finta però che vogliamo rendere questo grafico un po' più interattivo, quindi qua invece di mettere il numero 30 passiamo una variabile, che ne so, chiamata limit, e questo echo, questa variabile echo, qui ci viene già dato l'errore che limit non esiste, questo echo diventa il nostro limit, e quindi qua possiamo anche mettere un valore default, ok, e a questo punto schiacciando play, questo blocco di codice viene rieseguito, e quindi qua otteniamo un risultato simile a prima, ok, quindi a questo punto qui abbiamo collegato questa variabile limit al limit passato per fare la chiamata alla nostra API, quindi in automatico possiamo decidere quanti elementi del grafico effettivamente visualizzare, questo è molto carino, ci permette appunto di riutilizzare dati che ci sono su internet, magari fare delle infografiche interattive, altre cose, molto carino, questo più che invece vedete qua sotto, è quello che vi permette appunto di aggiungere nuovi blocchi interattivi, per esempio se volete visualizzare questa variabile, scrivete il nome della variabile, e a questo punto potete vedere che quando cambio qua il valore, cambia anche qua sotto, invece questa spuntina qua serve se volete mantenere aperta la visualizzazione, sia il risultato renderizzato, e sia il codice sorgente che l'ha generato, 50, e quindi in cascata tutti i blocchi vengono rieseguiti, quindi qua è la visualizzazione con 50 elementi, secondo me è una cosa molto carina per appunto analizzare dati che hanno a che fare con le criptovalute, ma in realtà qualsiasi cosa che restituisce un risultato a JSON, e spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace, lasciatemi dei commenti, ditemi cosa ne pensate di questo strumento, vi saluto e ci vediamo in un altro video, ciao! Ciao!